Ciao, sono Bebo, un personal trainer e il mio piatto preferito è la Cool Pastrami Salad. La Cool Pastrami Salad unisce la freschezza dell'insalata ad uno dei piatti più in voga dello street food statunitense, il pastrami, il tutto condito con la tipica salsa ranch. Il pastrami è una punta prelibata di petto di manzo che tagliata sottile rende perfetto questo piatto per chi non vuole rinunciare al gusto e nemmeno alla linea. E prima di rientrare in palestra per darmi la giusta carica mi concedo una birra Big Boss, il suo gusto inconfondibile riporta immediatamente alla memoria i favolosi anni cinquanta. Bevi responsabilmente. Mi piace alternare questo piatto anche ad altre versioni del pastrami come ad esempio il Cool Pastrami Sandwich o il Manhattan Pastrami, un'altra prelibatezza made in USA che puoi trovare solo qui. Realizza anche tu un video sul tuo piatto preferito del nostro menù. I più divertenti saranno pubblicati sul canale YouTube ufficiale e nelle TV in store.